Ritorna dopo l'alto numero di prenotazioni della prima giornata del 12 gennaio il check-up cardiologico completo nelle farmacie comunali salernitane. Sulla scorta dell'interesse dei giorni scorsi, quindi il Consorzio Farmaceutico Intercomunale che gestisce 19 farmacie tra Salerno e Avellino, ha deciso di organizzare un'altra giornata dedicata alla prevenzione, per consentire a quanti vogliono verificare le proprie condizioni di salute in maniera rapida, evitando possibili liste d'attesa e da costi calmerati, di rivolgere gestire la loro farmacia. Domani dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20, il check-up sarà possibile alla farmacia comunale Salerno 2 di via Petrillo a Pastena, che su indicazioni del comune tra l'altro sta effettuando orari prolungati di apertura, anche nei sabati, domeniche e festivi. Cerchiamo di organizzare giornate per la prevenzione delle varie patologie e in questo caso abbiamo pensato di offrire ai nostri clienti la possibilità di fare a un costo irrilevante un elettrocardiogramma, peseremo e faremo anche l'analisi della glicemia. I risultati, quelli della glicemia e il peso li rileviamo immediatamente, per quanto riguarda poi il riferto dell'elettrocardiogramma, un cardiologo si occuperà di rifertarlo e i clienti potranno venire a prendere un paio di giorni. Un check-up cardiologico che rientra in una serie di servizi aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali delle farmacie. Il farmacista ormai non è più un semplice dispensatore di farmaci o come qualcuno dice togli fustelle. In realtà la farmacia del futuro è la farmacia dei servizi. Da diversi mesi a questa parte sono partite tutta una serie di servizi integrativi che noi offriamo ai nostri pazienti, alcuni a titolo gratuito, altri con un piccolo contributo, proprio finalizzati a questa affermazione di una farmacia come presidio anche socio-sanitario. I servizi che noi offriamo sono l'autoanalisi del sangue, poi effettuiamo un servizio molto importante che è quello della pletismografia, che è un tipo di analisi che proprio oggi stiamo svolgendo in questa sede, che è volto alla verifica dei problemi circolatori. Un altro tipo di analisi che svolgiamo, magari anche più piacevole, è quello di pelle e capelli con apparecchi molto sofisticati. Noi andiamo a verificare stato di salute, problemi vari della pelle, dei capelli dei clienti e consigliare i rimedi più adatti.